Le farmacie comunali di Villafranca ottengono la certificazione di farmacia oncologica e diventano così punto di riferimento per un'ampia fascia di territorio finora scoperta dal servizio. Il sindaco Roberto Dalloca ha dichiarato le farmacie sono il primo baluardo di emergenza, come dimostrato in questo momento. Non poteva quindi mancare nel primo comune della provincia un importante punto di ascolto e di aiuto per famiglie e pazienti del territorio. GSI gestisce le due farmacie del comune di Villafranca, una situata nel centro storico di Villafranca e una nella frazione più polvorosa di Dossobuono. Villafranca conta oltre 33 mila abitanti, più comprensorio che attorno gravita. Mancava questo tipo di servizio e mancando questo tipo di servizio si è ritenuto opportuno di darlo alla cittadinanza e di farlo conoscere la cittadinanza. Perché sono poche le famiglie che non hanno avuto o che non hanno a che fare con questo tipo di patologia. Per cui abbiamo dei professionisti in ciascuna farmacia che si sono specializzati, hanno la certificazione di farmacisti oncologici e in due siti diversi, un aiuto tecnico e un supporto anche morale in una malattia che ha un'ampia diffusione. Tanto più adesso che stiamo vivendo un periodo di estrema emergenza, credo che questi due presidi possano essere di grande aiuto. Possiamo essere un supporto per quanto riguarda le terapie farmacologiche, le eventuali interazioni col farmaco e il cibo, l'integrazione che si può fare in questo periodo, le cure cosmetologiche e anche un supporto a livello emotivo. Il nostro scopo è di non scavalcare nessuno ma di cercare di essere incollante o dove riusciamo a fare consiglio direttamente lo facciamo ma senza sorpassare le figure preesistenti perché ognuno ha le sue competenze.